L'ultimo batterista e poi vi faremo una piccola sorpresa prima di Natale vi lasceremo con una piccola sorpresa Luca Formigare, System of a Down Toxistico Luca, Luca, non fermarti! Luca Formigare, System of a Down Toxistico Luca, Luca, non fermarti! Luca Formigare, System of a Down toxistico Luca, 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 Luca.. Grazie a tutti Bravo! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti